In una padella mettiamo due cucchiai di olio extravergine d'oliva e facciamo soffriggere leggermente uno spicchio d'aglio fritato, aggiungendo successivamente i nostri funghi di champignon e lasciamo insaporire. Dopo due minuti andremo a mettere i nostri pomodorini, ciliegino e il prezzemolo. I pomodorini saranno tagliati a pezzettini piccolissimi. Aggiungiamo un bicchiere e mezzo di acqua, anche vino bianco va bene. Sale, pepe e lasciamo cuocere per un quarto d'ora. Io ho deciso di preparare delle cortecce. Dopo 15 minuti questo sughetto è pronto. Ecco come si presenterà una volta cotto. Andremo a cuocere cortecce. Una volta cotte, le andremo a mettere nella padella nel nostro condimento e una volta mantecato il tutto impiatteremo e gusteremo. Buon pranzo da Mary Geek!